Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come sentite qui dietro, è il ventiduesimo giorno, quindi ieri hanno iniziato a nascere i pulcini. Anche oggi stanno nascendo perché ce n'è ancora che devono schiudersi, quindi è probabile che anche domani nasceranno. Signora, sentite, quelli che sono nati ieri e stamattina, oggi più o meno, sono già lì nella gabbia, che adesso poi vi faccio vedere. Comunque, oggi è il ventiduesimo giorno, io vi do un consiglio, l'incubatrice tenetela anche fino al venticinquesimo giorno perché può darsi che molte volte ce n'è qualcuno in ritardo. Raramente sono le volte che nascono il ventesimo giorno, quindi vi faccio vedere questi due che sono nati nell'incubatrice, sono appena nati, quindi li vediamo insieme. Come vedete, la nostra borotto è qui, ora, appena nati sono sempre un po' come li vedete, vedete che sono un po' tutti bagnatici, comunque poi si asciugano dopo almeno qualche ora, bisogna lasciarli nell'incubatrice e niente, qua ci sono delle altre uova che ancora non si sono schiuse. Buone notizie perché ne sono nati due che sono neri, sono scuri, quindi adesso ve li faccio vedere che sono qua dentro nella gabbia. Eccoci, come vedete nella gabbia io ho messo la chioccia artificiale che mi ha mandato la borotto. Ringrazio tantissimo la borotto, ho fatto un video in cui la aprivamo assieme, l'ho provata, la sto trovando ora e devo dire che mi sta piacendo davvero tanto perché sono tutti qua sotto, come vedete. Ora ve li faccio vedere meglio, ve la consiglio, questa è la più piccola che c'è, però comunque scalda tanto. se riesco, allora questo è uno scuro, adesso te lo faccio vedere, è nato ieri. poi questo qui è il primo che è nato, questo qua è nero, adesso cerco di farveli vedere, eccoli qua. questo qua, questo è l'ultimo che è nato, quindi ancora un po' così, però stanno tutti bene, devo dire, poi si riprende un po'. beh, uscirà un... beh, uscirà un po' così, per favore. vabbè, adesso vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un like qua sotto, un commento, qualsiasi cosa, potete chiedermi magari di fare... altri video, scegliete voi che video o quello che volete, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale, seguitemi su TikTok, Instagram, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.